Il giorno dopo il referendum, dunque a bocce ferme, ancora forse non tanto ferme, cosa fatta a Capo A si ricomincia? È una sconfitta maggiore per i giovani renziani che credevano tanto in questo progetto? Oppure per quell'establishment datato che andava a Rottamato che pensa di risalire a cavallo e forse magari invece non prenderà neanche la staffa? Beh, innanzitutto lasciami dire che c'è amarezza perché comunque il Paese ha perso una grande occasione per avvicinarsi al futuro e per compiere un passo avanti. Per quanto riguarda la ricerca anagrafica degli sconfitti, questa è un'operazione che francamente a me annoia un po'. La cosa che spero è che da domani si ricominci a tentare di restituire alla politica che è il luogo del cambiamento e delle decisioni l'autorevolezza e la credibilità per riconquistare questo ruolo nella società e nel futuro del Paese. Ha perso purtroppo oggi la credibilità della politica, ha perso l'idea di partito della nazione, ha perso il carro del vincitore, non hanno perso quei ragazzi, quelle splendide esperienze, quelle splendide storie di giovani, ragazze e ragazzi che in queste settimane si sono battuti per un'idea, si sono battuti per il cambiamento, si sono battuti con la speranza di dare alla propria generazione la possibilità di cambiare la storia. Ora chi ha vinto chiede le dimissioni anche delle classi dirigenti locali. Io non ho ben capito chi ha vinto perché ha vinto un sentimento, ha vinto una rabbia, ha vinto la volontà di dimostrare la distanza tra i cittadini e chi li rappresentava. È una sfida che si apre per la politica, per tutta la politica, perché io non credo che qualcuno possa scambiare questo risultato. Tenteranno di farlo i 5 Stelle, lo stanno facendo in maniera strumentale già a partire dalla legge elettorale, che fino a ieri consideravano la peggiore al mondo e che adesso invece vogliono conservare perché vedono al traguardo vicino, vedono la possibilità di andare a governare, dimostrando di essere meno diverso di quello che si sembrava, di quello che si pensava, perché una cosa è dire che una legge elettorale fa male del Paese e una cosa è dire il giorno dopo che quella legge elettorale invece va benissimo. Questo è il senso delle distanze che ci sono. Noi continueremo ad investire nel Partito Democratico, nella leadership e nella figura di Matteo Renzi perché un'intera generazione e un'intera esperienza positiva non può essere messa alle porte della politica e del disegno che riguarda il futuro del Paese. Raciti si dimette? L'establishment locale si dimette? Io credo che chi aveva individuato nel Partito Democratico l'autobus su cui salire per raggiungere determinati obiettivi personali e di carriera oggi abbia ricevuto una risposta definitiva a questa sua aspettativa. Altro discorso per chi crede di voler costruire all'interno del Partito Democratico una realtà che sia in grado di interpretare il desiderio di cambiamento forte che c'è nel Paese e di tradurlo in azioni politiche concrete che siano costantemente e quotidianamente realizzate e visivamente viste dai cittadini. Io le chiedo chi si dimette e lei non mi risponde. Non mi risponde perché ancora non lo sapete, perché dovete fare le vostre assemblee, perché ci sarà un direttivo regionale. Forse è meglio che mi dice non lo sappiamo ancora. Si apre una discussione all'interno del Partito Democratico. Chi pensava, chi immaginava che c'erano schemi prestabilite, liste già fatte e progetti che andavano semplicemente ratificati, a questo punto deve cambiare completamente i propri programmi. Non è una notizia assolutamente negativa questa per quanto riguarda soprattutto i più giovani nel Partito Democratico che invece adesso hanno la possibilità di chiedere a Matteo Renzi di recuperare quella narrazione del cambiamento che lo aveva accompagnato all'inizio e che ne aveva rappresentato la forza dirompente. Si è smarrita quella narrazione nel momento in cui invece il Partito Democratico è diventato rifugio di establishment, rifugio di classi dirigenti, rifugio di trasformisti. Noi dobbiamo recuperare quella dimensione, dobbiamo restituire al Partito Democratico quella dimensione e dobbiamo tornare a parlare e a dialogare con il Paese, con il Paese o tutto, con meno arroganza ma con intatta la voglia di cambiare le cose.